25 anni del premio Mimosa d'Oro, quest'anno assegnato a chi? A Chiara Miranda e non poteva essere che lei, perché il tema che portiamo noi avanti quest'anno è l'amore per il prossimo, prossimo che sia vicino o lontano. Chiara Miranda, fondatrice e responsabile della comunità Nuovo Orizzonti, opera in questo senso, perché recupera donne, soprattutto bambini, che hanno un grande disagio sociale. Noi naturalmente dovevamo premiare Chiara Miranda e portare avanti questo tema, perché noi ci impegniamo con spirito di sacrificio, con passione, con grande senso di responsabilità a cercare di portare avanti iniziative che ingidano nel nostro tessuto sociale e quindi cerchiamo di rinnovarci e cerchiamo soprattutto di adeguarci ai tempi e cercare di migliorarli. E oggi quello che manca è l'amore per l'altro, l'amore per il nostro simile e quindi quest'anno Chiara Miranda e testimonia della comunità di recupero Nuovo Orizzonti sarà con noi la chiamata dagli italiani, Lorella Cuccarini, che anche se la conosciamo per la sua grande professionalità di artista, la conosciamo anche per la sua grande umanità, perché 30 ore per la vita vengono portate avanti proprio da lei, quindi il suo impegno sociale è grandissimo. Noi oltre che praticamente Chiara Miranda diamo anche dei riconoscimenti speciali, sempre a donne che si sono distinte nei vari campi e cercano veramente di dare un contributo alla nostra società che ne ha tanto bisogno e quest'anno i premi vanno ad Angela Ogliastro, Maria Piscopo, Mariella Schifano, Anna Maria Sciandrone e Greati Scepare. Tutte naturalmente, ognuno nel loro raggio d'azione, portano il loro contributo. Appuntamento quindi a sabato 9 maggio alle ore? Alle ore 17, come sempre al Teatro Pirandello e come sempre voglio dire, l'ingresso è libero, è gradita la presenza di tutti, naturalmente fino ad esaurimento posti. Questo praticamente non dipende da me, ma dipende da voi, venite, anche se qualcuno non entrerà, non ha importanza, faremo di tutto, ma non interessa che la gente venga, che la gente stia con noi, che la gente gode con noi.